Fa dei respiri profondi. Ora chiudi gli occhi. Che cosa vedi quando dormi? Cose spaventose. Ti prego di raccontarmi tutto un'altra volta. Il camioncino ha frenato all'improvviso e sono scomparsi tutti. Li hanno uccisi, seppelliti, sono entrati in una setta, li hanno rapiti, chi lo sa. L'unica cosa certa è che quei tre sanno qualcosa. Mia sorella era tra i ragazzi che sono scomparsi. A più tardi. Sto cercando di capire che cosa è successo. Quel caso è chiuso. Sì, perché hanno trovato Ida? Ha mai pensato che ciò che è vero per lei non lo è per gli altri? Dopo la scomparsa di mia sorella, avevo degli incubi e anche molti. Erano reali? Erano reali soltanto per me. Lo vuoi sapere un segreto? La colpa è solo sua. Ma che data è? Quella in cui morirò. Ci stai ripensando? C'è un'isola su questa mappa. Ci vogliamo andare? Non te ne andare. Vuole dare un senso a qualcosa che non esiste. Lei sta dicendo che la sparizione dei suoi studenti non è reale. Lo è con me. Lo è con me. Li ho visti. Al buio. Grazie a tutti.